utopie castellinaria progetti arditi così veniva definita civiltà cattolica nel 1849 prima della sua fondazione e adesso qui dopo oltre 170 anni ci ritroviamo a parlare di questa rivista che è diventata internazionale pubblicata in nove lingue l'edizione italiana oggi primo giugno 2023 sbarca sul web in una maniera nuova cioè finalmente gli articoli potranno essere letti in formato digitale direttamente dal sito ma non è tutta qui ovviamente la nostra novità il nostro sito sarà un luogo in cui sarà possibile ritrovare nuove rubriche per esempio il viaggio nel tempo la rivista appunto ha accumulato nel tempo tante tante risorse tante riflessioni e quindi vogliamo proporre col passare del tempo in questa nuova rubrica e poi la rubrica rivedere le stelle fondata legata all'osservatorio astronomico della santa sede e ci saranno cronache e aggiornamenti su questo punto abitare nella possibilità una rubrica che è nata durante la pandemia e che ci ha aiutato a vivere questi tempi dando fuoco all'immaginazione allora adesso troverete questa rubrica all'interno del nostro sito web ma poi i podcast ci saranno tre podcast per cui sarà possibile ascoltare non solo leggere ascoltare la voce della rivista e le sue riflessioni ma poi ancora video rassegna stampa news e poi tutto il collegamento con la galassia social della rivista che in questi anni si è arricchito di fatto la rivista si trova su tutti i principali social che sono disponibili allora non mi resta che dire buona lettura buon ascolto a tutti i nostri lettori i nostri abbonati i nostri amici e la famiglia della civiltà cattolica che si ritrova a partire da oggi primo giugno in una forma diversa